Sono Pino Strano, candidato presidente alla Regione Lazio per Rete dei Cittadini. Voglio l'autogoverno. Rete dei Cittadini sono io e voglio una regione indipendente da banche e multinazionali. Rete dei Cittadini sono io e voglio che si diffonda la democrazia diretta attraverso il bilancio partecipativo e la sovranità monetaria attraverso le idee di Giacinto Auriti. Rete dei Cittadini sono io. Voglio il benessere degli animali e voglio promuovere le leggi a loro favore. Rete dei Cittadini sono io e voglio fare prevenzione perché quest'anno in Italia sono nati 30 bambini sieropositivi. Rete dei Cittadini sono io. Voglio un ambiente pulito dove si faccia la raccolta differenziata e non ci siano più inceneritori. Rete dei Cittadini sono io e voglio referendum deliberativi senza quorum. Rete dei Cittadini sono io e voglio acqua pubblica fuori da ogni logica di mercato perché l'acqua è un bene comune e non può essere mercificata. Rete dei Cittadini sono io. Voglio una meritocrazia vera e non più nomine politiche. Rete dei Cittadini sono io. Voglio il diritto all'istruzione, alla casa e al lavoro. Rete dei Cittadini sono io e voglio decidere che una buona sanità sia garantita a tutti. Rete dei Cittadini sono io e voglio una regione in cui farsi una canna non sia reale. Rete dei Cittadini sono io. Voglio andare a votare e voglio che il mio voto conti veramente. Rete dei Cittadini sono io e voglio che la circolazione monetaria, tanto in questa regione quanto in Italia, sia di proprietà del popolo italiano. Rete dei Cittadini sono io e voglio decidere io per il mio presente e per il mio futuro. Rete dei Cittadini sono io. Anch'io. E voglio mettere in corso la cambiare sociale per redimere questa nazione dalla incertezza per il futuro. La Rete dei Cittadini sono io. Scarta la casta che ti frega solo i soldi in tasca, col ballor di cianemani in pasta, è arrivata l'ora di... e basta. Rete dei Cittadini sono io. Nel 2012 l'Italia ha pagato 86 miliardi di interessi sul debito pubblico. Basta con i parassiti. Voglio una regione Lazio e un'Italia in cui gli interessi sulla moneta siano pari a zero. Rete dei Cittadini sono io e voglio un paese che sia come un ecovillaggio. Tutto questo è possibile solo se i cittadini hanno il potere di decidere direttamente, cioè con l'autogoverno. Solo con la democrazia diretta possiamo riprendere la sovranità sulla nostra vita. Rete dei Cittadini sei anche tu! Rete dei Cittadini sei anche tu!